Intervento dei Vigili del Fuoco di Ivrea, Castellamonte e Quornier della piattaforma e carrofiamma nella mattinata di venerdì 1 maggio intorno alle 8.30 alla Tenneco, ex federal mogul di Quornier. L'allarme è scattato per il principio di incendio di un forno. Dal capannone si è sprigionato una grossa colonna di fumo. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il grosso forno. Pare che la causa sia stato un guasso tecnico. L'azienda era chiusa e deserta. Intervenuto anche il personale della Caccia Rossa per controllare che non ci fosse bisogno del loro intervento. Com'è successo, scusate? Ah, dopo? Eh, un secondo solo. Ah, niente. Grazie a tutti.